Sono qui al museo della Cecchignola e io sono qui con questa AB42 autoblinda sariana, meravigliosa, veramente bella e restaurata e sono molto contento del fatto che la prima uscita dell'Italian MG AUNES Club sia stata effettuata alla Cecchignola portando le MG a rivivere i momenti della Seconda Guerra Mondiale, ma abbiamo riportato dei mezzi storici accanto a mezzi altrettanto storici e importanti. I soci hanno tutti apprezzato la visita e io sono contento del fatto che il nostro direttore regionale Cesare Finocchi ci abbia portato qui e lo ringrazio molto.